Buongiorno a tutti ragazzi sono Daniel e benvenuti su Football News Ci sono dei rumori fuori ma non me ne frega assolutamente nulla Perciò sigla E devo fare così perché se no non si vede Benvenuti nel mercato assurdo Condotto da Daniel, prodotto da Daniel, conduce Daniel Non so più come andare avanti, vai Daniel Ok, allora Allora ragazzi Iniziamo con delle notizie Partiamo con l'Inter Si penserebbe a Garai Vorrebbero andare, stanno guardando in Francia E vorrebbero appunto prendere Garai E se quel Garai dal Valencia Posso dirvi che non ha senso Per il semplice fatto che Avevi preso Godin Lei gli ha fatto fare una fine bruttissima Mi prende anche se quel Garai Che a perer mio è più scarso di Godin Meh, 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 meh Sicuramente gli serve un altro difensore centrale Perché Godin lo vorrebbero dar via Probabilmente avevo sentito anche qualcosa su bastoni Atletico Madrid Non vorrei dire cavolate E quindi un altro difensore ci sta E si guarderebbe in Spagna Con l'eseco del Garai Non lo so, non lo so Oltre che come giocatore non mi piace Troppo lento Ci mette troppo a fare i movimenti E poi bravo coi piedi E per carità però no No Poi oh Più a me frega tanto l'Inter E parlando purtroppo tanto che non frega l'Inter In questo caso non più tanto Me ne frega per il fatto che Dopo il sogno che a te Antonio Conte avrebbe un altro Sogno di colpo Chiaramente soltanto uno dei due Che è Pogba Prendendo Vidal Prendendo Pogba Rifaresti il centrocampo della Juve La cosa farebbe ridere Però sarebbe un bel colpo per l'Inter Non lo vedrei bene No Lo rivedrei bene nella Juve Sì Lo vedrei bene nel Milan Sì Quello è ovvio Però la vedo molto 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 Difficile che Pogba Ritorni all'Inter Perché lui più che attaccato Al allenatore E tutto quanto Era più attaccato alla maglia Quindi dico Juve Andando avanti Parlando sempre Visto che stavamo parlando di Juve Parliamo appunto di lei Nel video di ieri Vi avevo detto Che la Juve sarebbe interessata Da Dama Traore Ecco Il Wolverhampton chiede Ben 80 milioni Mazza che cifra Io mi aspettavo Sui 40-50 Ok Dio 40 Penso sì 40-45 Sì la cifra giusta 80 milioni No Non lo prenderei nemmeno io E se la Juve lo prende E Pierla prenderlo 80 milioni Poi oh Chi se ne frega Mica la mia squadra Andando avanti Un attimino Di stranezze Perché questa cosa Mi ha colpito pure a me Come state leggendo Sullo Zano Ci sarebbe Sì il Mina Io non sapevo questa cosa Cioè oddio Avevo sentito qualcosina Ma non così In modo concreto Ma ci sarebbe Anche Liverpool Di Klopp Quindi Si sarebbero anche Disposti a pagare Sui 35-40 milioni Per averlo Zano Probabilmente Come panchinarlo E sinceramente Ok va bene In senso Bisogna avere comunque Qualcuno di livello In panchina Ed è giusto così Io lo vedrei Abbastanza bene Nel Liverpool Almeno non tanto In verità Ecco Lo vedrei bene Nella Juve Non so per quale motivo C'è un sto Stacosa Che lo vedo bene Nella Juve Però Cavoli loro Andando avanti Una notizia In piccolissimo Secondo quanto Riporta tutto Calciomercato Calciomercatoweb.com Fatto sta che Mi l'ha interessato Daniel Olmo Giocatore che Mi fa impazzire Oddio Mi fa impazzire Esagerato Mi piace Tanto Lo ci vedrei bene Sì Come trequartista Sì Come mezzala No Come davanti La difesa No No Ok Trequartista Ma che va Desterlo Destro Ma trequartista E quindi La vedo dura Molto Ma penso sia Una delle Tipo Pogba L'Inter Ecco per noi Daniel Olmo Milan È una cosa simile Un colpo impossibile Tipo questo Chiudiamo Con un'ultima notizia Ragazzi Così mettiamo un pochino Di sorrisi Seconda sport italica Sappiamo sia Di Berlusconi Monza Avrebbe messo gli occhi Su Roberto Insigne E Camillo Ciano Allora Direi di più Di sia un Roberto Insigne Che un Camillo Ciano Ciano mi sembra Giochi nel Frosinone Non è malissimo Però Fa fatica Secondo me A riprendere A giocare Nel Nel Monza di Brocchi Quindi Io direi più Un Roberto Insigne Che Ricordiamo che sogna Di giocare con suo fratello A Napoli Con Lorenzo Insigne Ragazzi Sono finite Tutti qui le news Io mi ringrazio Di aver visto questo video Lasciate tantissimi like Vi ricordo Che se dovete Voglia Volete un video specifico Scrivetemelo qua sotto Io poi lo farò Ciao a tutti ragazzi E buona giornata Non so perché ho detto Buona giornata Ma va bene Ciao